La frazione di Lago nel comune di Borghetto Vara si prepara ad onorare San Giovanni Battista con 5 giorni di festa nel corso dei quali fede, devozione al santo e tradizioni popolari si intrecciano dando vita ad un significativo momento di aggregazione sociale all'ombra del campanile. A Lago, una delle frazioni del comune di Borghetto di Vara, ci sarà la tradizionale festa di San Giovanni Battista che è titolare della confraternita, ha un bellissimo oratorio con una splendida statua a linea e anche un bello stendardo. Il 22 di giugno ci sarà la tradizionale messa e processione con lo stendardo e il falò nella piazza del paese, mentre il giorno 24, giorno della festa, alle 11 la Santa Messa in chiesa e alle 16 il Vespro e la processione con la Venezione Eucaristica insieme alle confraternite della Val di Vara e della zona. Una festa che coinvolge volontari e volontarie del paese. Certo, perché ormai da 30 anni un comitato di parrocchiani organizza a latere della festa patronale e religiosa una sagra popolare con scene in piazza per la raccolta di fondi, per il sostentamento e il mantenimento degli edifici della chiesa, della canonica, dell'oratorio di San Giovanni. In questi 30 anni hanno già realizzato il restauro di tutto l'esterno della chiesa, il campanile, il sagrato della chiesa e attualmente ci si sta impegnando per concludere i lavori di ristrutturazione dell'antica canonica. Un impegno che merita il ringraziamento e il plauso. Sì, perché appunto grazie al sostegno e l'impegno veramente oneroso di queste persone che da 30 anni si consumano in qualche modo e che spendono veramente tanto tempo in quella comunità che è molto coesa fra di loro, devo dire che hanno proprio un lavoro grande e necessario e fondamentale per queste piccole comunità. Quindi una festa dove i volontari fanno una grande opera, come diceva Don Tommaso, è un momento particolarmente significativo di aggregazione ma c'è anche un momento di grande divertimento. Certo, perché a partire dal 23, dal giorno 23 giugno, si cominceranno le danze, avranno inizio le danze e partiranno con una serata in cui suoneremo praticamente noi come gruppo, ovvero più dei DJ. A seguire avremo tre giorni di grande liscio con orchestre già molto conosciute che sono Luigi Messina e La Nuova Favola, Robby Bologna e Daniele Neri. Quindi insomma c'è divertimento per tutti, per tutte le fasce d'età e vi aspettiamo. Siamo lì a cercare di farvi divertire. Quindi musica e ovviamente le solite tradizionali cene con prodotti tipici della Valdivaro, un'occasione da non perdere. Grazie a tutti.